La fuzza del San Giovannese distrugge il Grottaccia e si rialza subito dallo stop di Prato dello scorso fine settimana. A 7 a 0 il punteggio per i ragazzi allenati dal mister De Lucia che di fatto manifestano superiorità totale per l'intera durata dell'incontro. Azzurri avanti 2 a 0 prima dell'intervallo. Ci pensano Matteo Prima e Stelloni poi a scavare il doppio vantaggio che fa capire che, a parte qualche errore di troppo sottoporta, l'esito non sarà mai in discussione. Al rientro dall'intervallo infatti la fuzza al Cala, una vera e propria scala reale. Parra, Imenez, Adalterio ed ancora Stelloni e Matteo, i marcatori di inizio a partita, gonfiano la porta di Fufi regalando di fatto il quarto posto in classifica agli azzurri che così hanno riscavalcato Ascoli in gradatoria ed hanno 6 punti di vantaggio sul sesto posto. Sabato prossimo match proprio con questa chiave di lettura alla Strassigna. Una vittoria per la fuzza le servirebbe ad eliminare definitivamente o quasi la compagine fiorentina dalla corsa per uno dei primi 5 posti. I sacrifici che faccio e che si fa con tutta la squadra sono molto grandi, però poi vengono ripagati con il lavoro, diciamo, tutto viene ripagato. Ottimo l'intesa con Ivan Matteo sul calcio d'angolo, anche se la difesa ospite sembrava il presepe. Sì, no, effettivamente sì, è stato uno sguardo, ho capito che l'avrebbe battuta dentro e effettivamente sono stato un po' passivi loro, devo dire sì, però è andata bene così che si è entrata dentro. Sabato prossimo siamo alla Strassigna, conosciamo bene anche la partita andata, insomma, ci preso un po' a calci, calma il gesto? Sì, dai, la Strassigna è una squadra molto esperta, anche se è arrivata ora in Serie B, però è una squadra molto esperta che sicuramente in casa loro darà filo da torcere a tantissime squadre, noi dobbiamo andare con il piglio giusto e non sottovalutare assolutamente perché sono tutti giocatori molto esperti che possono far male. Siamo due settimane fondamentali per la stagione secondo me perché giochiamo contro la Strassigna che è una squadra molto ostica soprattutto nel proprio quadrato di gioco, poi ci giochiamo con la Storia perché giochiamo la Storia, è il primo traguardo in 20 anni, 26 anni di questa società e quindi giochiamo contro la Propatria a Modena il 12 febbraio per l'accesso alle Final 8 e poi in casa con la Mattagnanese, quindi in queste due settimane secondo me ci giochiamo una stagione.